Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, siamo su FlySemore 2020, penso e spero uno degli ultimi voli col picci vecchio e oggi ci vediamo un po' la costa azzurra, quindi partiamo da Nizza e voglio vedere come è fatto Monte Carlo che è circa qua, il Principatus, siamo con l'Icon A5, facciamo un ammaraggio e allora adesso facciamo di non far cappelle però, grazie è in tempo reale magari un orario più decente ok, facciamo ecco traffico in tempo reale oh, aspetta questo è il discorso, meteo in diretta, facciamo così che è meglio meteo in diretta non è bel tempo però a Nizza in caso cambiamo, se vediamo che fa schifo quindi facciamo un voletto così, vediamo un po' come come è Nizza e soprattutto Monte Carlo vediamo se riusciamo a vedere il circuito, penso e presumo proprio di sì buono raga, ci becchiamo all'aeroporto qua, come si presenta Nizza non sembra niente male vai ok dobbiamo andare verso est e si vola vento non c'è, non è alla fine, deve essere nuvoloso, non mi sembra nuvoloso guarda che c'ho il joystick, cazzo, un po' distante vedrò di avere lo studio nuovo raga, per avere tutto ad hoc andiamo oh no, cominciamo, non per i maroni che do coglioni guarda che bello però spettacolo puro ecco, dovremo essere qua molto vicini bene ora adesso lasciamo un attimo ok, così possiamo dedicarci alla parte esternazza wow beh, perché l'aeroporto è bellissimo ma scusa un attimo ecco, grazie ma perché magari Monte Carlo è qua o di qua, se lo vediamo cerchiamo di capire va bene, ciao mi piace proprio riprendiamoci noi voglio capire dov'è la pittoresca Monte Carlo sapete che il mio orientamento è curioso io avviso il mio orientamento lo sapete che è molto scandaloso se è qua vicino, come presumo torniamo indietro e ci facciamo la terra a giovanizza qua sicuramente non c'è Monaco insomma, ho capito è dopo qua, secondo me è qua dietro dovrebbe essere qua aspetta un attimo allora, vediamo un attimo ragionamos ragionamos allora perché devo vaneggiare così tanto penso che sia qua sinceramente tanto che mi rendo conto capisco forse il non aver la patente mi porta ad avere delle difficoltà però non sono mai sicuro di niente praticamente però deve essere questo secondo me forse ragazzi dopo 25 ore di volo riusciamo a capire dov'è dove è Monte Carlo vediamo se è questa teoricamente è questa è questa la pittoresca è questa la pittoresca vai oh eccola qua eccola qua ok ci siamo ce l'abbiamo ce l'abbiamo fatta ragazzi incredibile adesso cerchiamo di volare cerchiamo e ci facciamo la foto ok ok boh adesso io però vorrei capire adesso andiamo a bassi per capire un po' il tracciato è Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E dopo, andiamo, ritorniamo a Nizza, questo è il programma. E' un po' pericoloso, però abbiamo il porto. Dobbiamo capire... Facciamo un altro giretto. Ok, ce la facciamo ragazzi. E così, insomma, comunque anche Monte Carlo è fatta benissimo, cioè assolutamente. Ok. Il primo ammaraggio è andato bene, vediamo il secondo. Ce la faremo? Voglio entrare dentro il porto, cazzo. Obiettivo porto. Non troppo veloci, non troppo veloci. Mamma mia, cosa stiamo rischiando, raga? Cosa stiamo rischiando? Buono, buono, buono. Buono, buono. dentro il porto. Ebbene, rischiettiamo uno senso di orientamento molto curioso con un grandissimo terraggio. Ok, adesso devi solo frenare, però, eh. Very god. Classico very god. Dopo sarà da ridere il... Il decollo, però... Tanto ci siamo. Vediamo se riusciamo a preparare... Ah, insomma. Ah, poi vediamo. Qualcosa lo possiamo fare. Yes! Perfetto. Magnata. Fatta. In tutti i sensi. Quindi siamo divertiti sia a tavola che fuori. E adesso ci possiamo... Però direi di girarmi, perché... Però la terraggia è stata qualcosa di epicus, dai. Adesso dobbiamo tornare a Nizza. Piano. Ok. Però se non erro, ho visto un po' il... Ho visto che al posto della piscina c'è un edificio, se non sbaglio. Eh, dopo, per carità, posso anche sparare cagate. Però... Insieme di aver visto il... C'è un... La piscina che in realtà è un... È un edificio, secondo le mappe qua. Ho fatto una cosa abbastanza illegale, penso. Ok, lo stavo. Mamma mia, che palle quando fa così! Ok, adesso facciamo una virata e cerchiamo di fare la panoramica con il tramonto. Faccio... Mamma mia, quando fa così lo odio! Ok. Ok, adesso lasciamo un attimo a lui. Scusa? Scusa? No, direi che è meglio non lasciare a lui. Che pippone obeso! Mamma mia! Allora... Me la merito! Penso che ci possa stare tranquillamente questa, eh! Buon! Ok... No, ma è bravissimo il copilota! Proprio un uomo di classe! Vediamo noi che è meglio, eh! Ok, è un po' abituarci però, perché veramente faccio fatica, ve lo giuro! Cioè... Faccio meglio gli atterraggi delle... Come si dice... Della navigazione, diciamo... E' lentino, eh! C'è da dire che non è proprio velocissimo! Però te lo godi, dai! E' lentino, eh! C'è da dire che non è proprio velocissimo! Però te lo godi, dai! Allora... Ok... Dice Tower, Icon Alpha, Sierra, X-Ray, Golf, Sierra, is niner miles northeast, with Charlie to land. Icon Alpha, Sierra, X-Ray, Golf, Sierra, Dice Tower. Make straight in runway 22L. Altimeter 29R, decimal 9R, 0.170. Ok... Make straight in runway 22L, Icon X-Ray, Golf, Sierra. Teoricamente ci pensa lui, spero. E andiamo per un atterraggio degno del miglior cume, eh! Mi raccomando, non possiamo sbagliare. L'aeroporto è quello, ovviamente. Vediamo una cosa, però. Comunque il copilota è bravissimo, è un uomo di una classe disarmante. Un uomo che fa proprio della capacità di volare la sua prima virtù. Io qua atterro la cazzo, atterro di qua, adesso non so se devo girare dall'altra parte, circunnavigare. E la pista, fare una... Non mi interessa. Sono qua. Dai, non laggare però, Cristo Santo. Non essere stronzo, dai. Hai fatto il tuo dovere fino ad adesso, PC. Mi laghi qua, inizio. Ah, la roba! Eh, non è che faccio abbastanza fatica, eh, raga. Perché non è semplice atterrare. Ok. Adesso vediamo se riusciamo a fare la stronzata di sbagliare l'atterraggio così. V-flap, ok. Il carrello è giù. Inizio è stupendo. Il tramonto anche. Siamo tanto veloci però, eh. Siamo tanto alti, devo scendere come un porco, Cristo Santo. Viva lettera GLS, eh, strumentale. Per me almeno, eh. Ce la faremo. Ce la faremo. Siamo altini. Forse stiamo un po', stiamo un po' recuperando. E questa è la pista? Speriamo di sì. O questa o l'altra? Vediamo il... Però la 22. Buono. Rego. Tutto 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 rego. meglio, atterraggio senza motore, ah proprio ho spento tutto, ah bene, ho sbagliato, forse ho esagerato un po' con la, sono un figa però, bene ho spento il motore, sono quelle cose belle della vita, che ogni tanto ci stanno, però per rendere tutto un po' pavimentato volevo l'achievement, lo volevo, ho capito, faccio la manovra arrogante, beh non mi piace, questo è uno dei miei preferiti, di quelli piccoli diciamo, verso il parcheggio dai, sul gate siamo più veloci della normalità e ve lo dico già, però voglio arrivare, voglio, qua mi aspetta una ragazzetta di inizio, dopo quelle di Monte Carlo, mi sembra che sia soddisfare le fanciulle di inizio, che sono anche meno costose, così faccio vedere, visto che avete chiesto in tanti, ma avevo già fatto vedere questa cosa, come vedere le linee blu, diciamo, siamo arrivati bene, però due atterraggi così, cioè dai, siamo grandi, cazzo, guarda che carino, guardalo, 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 no, non siamo ancora giusti, oh, eccoci qua, dovremmo esserci, ciao, buono raga, è andata, esternazzo, spettacolo, adesso faccio vedere questa cosa, allora, assistenza, eh, sono un po' lento, perché è stronzo, ovviamente, queste sono le piccole, come si dice, sfaccettature di Microsoft Flight Simulator 2020, dai, però devi farmi vedere due cose, queste non le capisco, aiuti alla navigazione, nastro di rollaggio, semplice, come bere un bicchiere di Pepsi Cola, che non esiste, ciao, niente, dopo questa ragazzi, io me ne vado, perché oggettivamente ho bisogno di una pausa, raga, un saluto nel comedone veneziano, alla prossima, ciao!